Benvenuti al terzo episodio della seconda stagione di Non Solo Madeleine, il primo podcast italiano dedicato a Marcel Proust. Io sono Giacomo Brunoro e oggi vi accompagnerò in un viaggio tra mito e realtà a Combré o a Elie, a seconda di come preferiate chiamarla. Stiamo parlando della piccola cittadina di campagna a un centinaio di chilometri da Parigi e a circa 20 chilometri da Chartres in cui Proust ambienta parte della recherche e che prende il nome di Combré nella recherche, anche se nel Jean Sainteuil, eccolo qui, Proust usa ancora il termine originale di Elie, che è il nome con cui si chiamava e si chiama tuttora questa piccola cittadina, che però nel 1971 ha cambiato ufficialmente nome in Combré-Elie, quindi la poesia, la meraviglia, la potenza della letteratura che riesce veramente a trasformare la realtà perché questa piccola cittadina di campagna, in cui peraltro io non sono mai andato e resta una delle cose che ho fissate in agenda e prima o poi riuscirò assolutamente a fare, è diventata un po' un luogo votato alla memoria, al culto di Proust. Qui c'è la sede della Società degli Amici di Marcel Proust e di Combré, qui trovate il museo della zia Leonie, ispirato proprio alla recherche e che è situato nella casa della zia Elisabeth Amion, in cui Proust trascorse le vacanze fino al 1880, quindi quando aveva nove anni, perché dopo la prima crisi d'asma per un lungo periodo non poteva più tornare in campagna, tornerà soltanto qualche anno più tardi, mi pare intorno ai 15-16 anni, proprio per il funerale della zia Emilio. Se cercate online e trovate un sacco di informazioni su questo piccolo luogo di sogno, c'è anche un museo dedicato alle foto realizzate da Paul Nadar, che per capirci è il fotografo che fece ritratti di Reinaldo Hahn, di Agostinelli, del padre di Proust, del fratello, quindi un fotografo legato indissolubilmente alla memoria e al ricordo di Proust. Uno dei particolari più interessanti, a mio avviso e forse anche più poetici, è quello della Giornata dei Biancospini, un'iniziativa nata nel 1935 quando il professore Robert Proust per la prima volta portò un gruppo di appassionati lungo quella passeggiata che viene descritta nella recherche, quella per intenderci in cui il narratore incontra per la prima volta Gilbert. È uno dei passaggi forse più celebri della recherche, è sicuramente uno di quelli più affascinanti, più ricchi di implicazioni, ricordiamo che proprio anche lì a Elie potete ancora oggi vedere il campanile di Saint-Jacques, che venne poi trasfigurato nei campanili di Martinville, sempre nella recherche. La Giornata dei Biancospini invece è diventato un appuntamento annuale organizzato dalla società degli amici di Marcel Proust e di Combré e ogni anno a maggio si tiene questa sorta di rito che permette di riscoprire la recherche e i suoi luoghi all'interno di un'atmosfera quasi ovattata da sogno. Come non sono mai stato a Elie, è una cosa che sogno di fare da tempo e prima o poi sicuramente colmerò questa lacuna. Però chiedo a voi se ci siete stati, se avete dei ricordi, se invece state pensando di andarci, insomma fatemelo sapere, potete scrivere nei commenti, potete inviare una mail a info-lacasebooks.com, sono curioso di sapere quanti di voi hanno visitato Elie o hanno semplicemente sognato di visitarla.